Ciao e benvenuto su Psinel, il podcast italiano dedicato alla psicologia pratica e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla centoventesima puntata del podcast. Oggi parliamo di certezza contro o versus incertezza, un discorso che apre la strada a numerosi deliri ma che riassume una delle filosofie di Psinel più forti. Il fatto che per vivere bene bisogna imparare ad accettare l'incertezza della vita. Semplice no? Mica tanto! Non è così facile accettare l'incertezza della vita, anzi probabilmente è una delle cose più difficili da fare. So che ne abbiamo già parlato ma come probabilmente saprai sono argomenti che vale la pena riguardare e sviscerare perché sono il sale di tutta la nostra crescita personale e del mindset, diciamo così, dell'atteggiamento mentale più potente per vivere bene nella nostra epoca moderna. Bene, iniziamo! Oh, molto bene! Allora, come stai? Hai praticato un po' degli esercizi di Psinel, un po' dei consigli di questo podcast? Allora facci sapere, fammi sapere come è andata e soprattutto ringrazio, sai che prendo questi minuti di inizio per ringraziare te e tutte le persone che come te hanno condiviso il mio podcast, magari cliccando su mi piace e in modo particolare a chi si è iscritto alla mia mailing list per entrare nella community di Psinel e chi si è preso la briga di fare una delle cose più noiose in assoluto che è quella di andare su iTunes e valutare il mio podcast con un piccolo commento e magari con 5 stelle. Allora, qualche tempo fa, quando ti parlavo spessissimo di ipnosi, avevo iniziato a raccontarti e a parlarti di Michael Yapko, uno dei professionisti dell'ipnosi più bravi e riconosciuti al mondo. Yapko, in un suo libretto, fa una semplice ed efficace metafora, analogia. Hai mai sentito parlare del test di Rorschach? È quel test che usiamo noi psicologi con quelle macchie strane. Se non sai di cosa si tratta, scrivi test di Rorschach su Google e puoi trovarne tutti gli esempi del mondo e sono certo che l'hai visto in qualche film. Ti stupirà vedere che Rorschach era uguale a Brad Pitt. Se sei una donna, vatti a vedere questo personaggio dell'antichità, che è antichità, oddio, di tre generazioni fa, che questo psichiatra che assomiglia davvero a Brad Pitt. Ora, quel test è il padre di tutti i test proiettivi, dove per proiettivo significa che ci proietti dentro pezzi della tua personalità, che vengono analizzati dal professionista di turno, nel caso del Rorschach. Come ti raccontavo nel podcast su come riconoscere gli altri attraverso il loro giudizio, noi proiettiamo continuamente verso l'esterno, perché abbiamo dei filtri che colorano la realtà del nostro colore personale. Se ci mettiamo a guardare le nuvole e cercare di dargli delle forme, ognuno di noi vedrà delle forme differenti e, secondo la teoria proiettiva, vedrà qualcosa che ha a che fare con la propria personalità. Un appassionato di calcio potrebbe vedere dei giocatori, un tennista delle racchette e così via. A livello base, diciamo cognitivo, che cosa succede quando interpreti quelle nuvole? Le stai interpretando, quindi gli stai semplicemente dando un significato, significato che una volta attribuito è poi difficile da togliere, da dissolvere. Se qualcuno guida la tua percezione, magari dicendoti, ma guarda bene, sembra proprio un volto umano, la vedi gli occhi, quella è la barba, la vedi? Se riesce bene in questa operazione il tuo amico, poi anche tu sarai, per così dire, catturato dalla sua proiezione. Quindi proiettiamo per capire e per comprendere ed una volta che abbiamo compreso, cioè una volta che gli abbiamo dato una forma, quella faccia ad esempio, facciamo poi fatica a staccarci da quel significato. Per IAPCO, più uno stimolo è ambiguo e più facciamo fatica a creare questo significato. Fatica, ok? Più una nuvola è sformata e più si fa fatica a vedere un'immagine ben formata. Banale, no? Sì, però nasconde una grossa verità. Se facciamo molta fatica ad attribuire senso ad immagini vaghe, immagini incerte, qual è lo stimolo più incerto a cui andiamo costantemente incontro. Visto che per IAPCO questo cercare di dare significato agli stimoli ambigui è qualcosa da un lato che facciamo in automatico e dall'altro è qualcosa che può farci sentire male, perché per l'appunto è difficile dare senso a qualcosa che sembra così ambiguo, che non ha un senso apparente. Ecco, secondo IAPCO, lo stimolo più ambiguo col quale tutti noi abbiamo a che fare, anche tu che mi stai ascoltando in questo momento, è la vita. Esatto, la tua vita, la nostra vita di tutti i giorni. Potremmo dire il cercare di dare un senso a tutto ciò che ci accade momento per momento. Questo è lo stimolo più ambiguo in assoluto. La cosa meno prevedibile del mondo è cosa accadrà tra un'ora, fra cinque minuti nella nostra vita. Pensaci, non è così assurdo. Sì, puoi pianificare tutto quello che vuoi, ma non puoi pianificare tutto. Non accettare questo genere di ambiguità della vita e del futuro è il modo migliore per soffrire terribilmente in questo mondo. Ecco perché quando dai forma a quelle nuvole, fai anche delle difficoltà a staccarti da quella tua interpretazione. Perché il tuo cervello ama il significato e le regolarità e soffre quando queste regolarità, questi pattern non esistono. O meglio, non riesce a trovarli. Per cui cerca quel significato e quella regolarità e anche quando non le trova, ne cerca una, ne crea uno e si appiccica come una cozza a quella interpretazione. Potremmo quasi dire che è impossibile non conoscere, perché quando senti degli stimoli ambigui, gli dai un senso, ecco che pensi di conoscere. Anche se poi in realtà non è così vero. Anni fa alcuni studenti di matematica sono stati invitati a risolvere una sequenza di numeri. È presente le classiche sequenze tipo 20, 30, 40 e poi? Ok. I ricercatori presentano questa sequenza e al termine dell'esperimento la maggior parte di questi matematici aveva scoperto la regola che faceva proseguire la sequenza. O almeno pensava di averla scoperta, perché non c'era alcuna regola. Quei numeri erano stati estratti a caso da un computer. Una piccola nota. A caso, random, significa che il computer li sputa fuori davvero a caso e la casualità ha anche un parametro, un coefficiente matematico, perché per essere davvero casuale ci devono essere delle misure e un computer tirava fuori questi numeri davvero a caso. Quando i ricercatori lo hanno detto ai matematici, ragazzi guardate che non c'è alcuna sequenza, i soggetti dell'esperimento si sono ribellati dicendo, ehi, sarai tu che non hai trovato la formula, io ci sono riuscito. Nonostante non esistesse una regola, cioè un reale significato a priori che legasse quei numeri, i matematici l'avevano trovata. Ognuno a modo proprio e nessuno fra questi era disposto a credere che questa regolarità non esistesse. È inutile dirti che noi ci comportiamo esattamente in questo modo tutti i giorni. Formuliamo ipotesi sul futuro, ipotesi che servono sia per guidare le nostre azioni e sia per dargli un senso, un significato, e poi le testiamo nella realtà, proprio come uno scienziato. Più queste ipotesi sono rigide, cioè non sono più ipotesi ma certezze, e più possiamo andare incontro a terribili sorprese, perché la certezza nel nostro mondo non esiste. Se segui Psenel sai che qui ti parlo spesso di ricerca. Anche le intuizioni di oggi hanno basi sperimentali, come ti ho appena detto, però troppo spesso le persone usano il termine scientifico per indicare qualcosa di certo, ma le cose non stanno così. La scienza è in teoria basata sull'incertezza. Io formulo un'ipotesi in un certo campo, costruisco un esperimento per verificarla, se le cose vanno bene confermo la mia ipotesi, ma non per sempre e mai per sempre. Sì perché domani arriva un altro ricercatore che magari con una nuova ipotesi ed un nuovo esperimento smonta la mia. La scienza, come diceva Karl Popper, deve essere aperta alla falsificazione, come diceva, come un'anatra pronta che gli venga torto il collo. Tutto ciò che non si può discutere e falsificare non è scienza, ma è un dogma, è un credo religioso. Quindi non esistono certezze scientifiche, anzi in questo campo dovrebbero essercene meno che in altri campi. Ok Genna, ma allora io a chi devo credere? A cosa mi devo riferire? Mi stai dicendo che non esiste nulla di certo, quindi non devo credere alla ricerca scientifica? Assolutamente sì che devi credere alla ricerca scientifica. Per me è sempre il campo scientifico, ovviamente tenendo aperto il tuo cervello e sapendo che per accogliere un dato scientifico devi essere aperto alla sua confutazione, quindi non puoi essere certo. È come se fossero certezze, gradi di certezza, chiamiamoli così, gradi di certezza e che l'esperimento empirico, quindi l'aspetto scientifico, ti dà una specie di certezza in più, un grado in più di certezza, ma mai una certezza completa, totale. Ed ovviamente devi essere sempre pronto a smontare la tua certezza per fare posto magari ad una nuova scoperta, ad una nuova intuizione, a qualcosa di differente. Lo so, lo so che questi discorsi possono far scricchiolare il nostro sistema di credenze, ma sei qui per questo. Sei qui per crescere, non per sentirti dire che sei il più figo del mondo, come fanno tanti altri divulgatori su internet. Sì, puoi essere il più figo del mondo. Se accetti che anche la tua sensazione di essere figo è incerta, in alcuni campi ti senti un drago ed in altri ti senti una lucertola. Le cose vanno sempre così. Un giorno fai prestazioni da Superman ed altri giorni fai fatica ad avere qualcosa dell'1% di quello che hai fatto il giorno prima. Il mondo è fatto in questo modo e noi esseri umani siamo fatti in questo modo, ciclici, no? Fra virgolette. Ok, Gen, ma così io non avrò mai certezza di nulla. Eh no, caro psinellino, una certezza ce l'hai, che non esistono certezze. Ok, ma questo potrebbe portarmi a pensare che allora è inutile se mi impegno in qualsiasi cosa, che è inutile programmare il futuro e cose del genere. Sì, può accadere, ma sarebbe un errore pensare questo, perché è solo attraverso una certa preparazione che puoi far fronte all'incertezza. Se sei un musicista e conosci molto bene un brano che stai suonando, se per caso sbagli una nota sai bene come ritornare a quello che stavi facendo e a volte riesci anche a trasformare quel piccolo errore in una chicchetta musicale. Ovviamente dipende dal genere che tu stai suonando, se stai facendo la classica è un po' difficile, però se invece non conosci bene quel brano ogni piccola fuoriuscita da quella struttura potrebbe essere fatale, nel senso che non riesci più a riagganciarti al flusso della musica facendo altre numerose cappelle. Se suoni scommetto che hai capito al volo quello che sto dicendo. Meno conosci quella struttura e più un imprevisto può farti andare fuori strada. Questo può portare ad un paradosso molto strano. Il fatto che più conosci qualcosa e più rischi di diventare inconsapevole, o meglio, di agire in modo inconsapevole. Se conosci alla perfezione una strada non hai bisogno di essere presente mentre la stai percorrendo. Così se un musicista conosce molto bene quel brano è maggiormente in grado di improvvisarci, ma allo stesso tempo può anche eseguirlo mentre pensa a cosa mangerà la sera a cena. Quindi paradossalmente più ci avviciniamo alla certezza e più rischiamo di perdere consapevolezza di ciò che stiamo facendo. Te lo ripeto, più ti avvicini alla certezza delle cose e più rischi di perdere consapevolezza. Perché una volta che pensi di sapere quella cosa lì è come se avessi creato dentro di te un software e non lo aggiornassi mai. Questo non vale solo per le azioni fisiche che fai, ma vale anche per i tuoi pensieri. Se credi di essere fatto nel modo X o Y, perché magari i tuoi genitori erano fatti in quel modo e pensi di aver ereditato nel DNA quel tipo di comportamento o di pensiero, ebbene sappi che più sei sicuro di questo e meno noterai quando agisci in modo differente e meno consapevolezza ci potrai inserire. Perché se credi di essere fatto così, tutte le, diciamo così, le prove contrarie non le vedrai. Insomma, gira e rigira, andiamo sempre a parare sulla consapevolezza, su quello stato di presenza. Sì, perché potremmo immaginare certezza ed incertezza come su un continuo che però non ha una forma lineare, bensì ciclica. Se ad esempio vuoi diventare un esperto in un determinato campo, più studi ed applichi e più diventi esperto. E quindi certo, in teoria, di quello che fai, ma più studi una certa materia e più ti rendi conto che c'è tantissimo da sapere e quindi più studi e più ti rendi conto dell'incertezza, delle tue certezze. Se vuoi diventare un bravo musicista, via via che ti applichi, scopri che la musica è un mondo infinito e che quel brano che facevi 20 anni fa, oggi lo fa in modo completamente diverso. Sì, le note sono le stesse, ma il tuo modo di farlo cambia e migliora e potrebbe andare avanti all'infinito, quel tuo modo di interpretarlo e rienterpretarlo. Più ne sai e meno sai. Come avrebbe detto Socrate, so di non sapere. Ecco il culmine massimo della certezza che incontra l'incertezza in questo circolo, in questo ciclo. Ecco, vedi, sono sempre più convinto che il croceria di certezza e di incertezza sia lo stato di presenza. Se sono consapevole di quello che faccio, sarò aperto a nuove informazioni, come ha dimostrato la Langer. Anche se sono al massimo delle mie certezze, mentre se sono inconsapevole, sarò chiuso nei miei schemi, in quegli schemi top down che mi impediscono di vedere le nuove informazioni in entrata bottom up. Beh, se pensi che stia delirando con parole inglesi, vatti a vedere il podcast su meno sai e meglio stai, qualcosa di molto simile a questo argomento. Lo troverai nel quaderno degli esercizi. Insomma, siamo nuovamente di fronte ad un argomento oceanico, ma di cui non si sente parlare molto, perché preferiamo pensare che esistano delle certezze su cui basarci, no? La base in cui mettere radici. Ma in realtà ogni nostro passo è incerto, ma non nel senso che noi dobbiamo essere incerti, nel senso di insicuri, ma nel senso che ogni passo può rivelarsi diverso da come l'abbiamo programmato. E puoi pensare questo partendo da tutto ciò che ci siamo detti fino ad arrivare alla meccanica quantistica, ma non abbiamo bisogno di scomodare chissà quale divinità per renderci conto che viviamo in un mondo in continuo cambiamento. Ok, continueremo questa discussione sul post e poi nel quaderno degli esercizi. Non voglio parlarti della meccanica quantistica che poi sembro un fuffa coach che mette in mezzo cose che sembrano un centri no nulla. In realtà c'entra, perché devi sapere che quando è arrivata la meccanica quantistica questa ha smontato le certezze di tutti i matematici del Novecento, matematici e fisici del Novecento, che invece non erano d'accordo con questo, no? Einstein dice ad Heisenberg praticamente Dio non gioca a dadi con l'universo, intendendo che non può esistere qualcosa di incerto nell'universo, no? Visto che l'universo è scritto con regole matematiche secondo Einstein, quindi ha una sua certezza. Ecco che invece arriva Heisenberg e dice no, guarda che secondo quello che io vedo non c'è questa certezza. Ma vabbè, la finisco qua perché è un discorso lunghissimo. Quindi nel frattempo proviamo a sintetizzare il tutto con una serie di consigli. Quindi come al solito, bando alle ciance e vediamo insieme i consigli di Psynel. Primo. Ama l'incertezza. Questo consiglio potrebbe essere riassunto nella famosa teoria della zona di comfort, che mi auguro sia ormai nel tuo DNA. Amare l'incertezza non è la dote di un pazzo schizzato, che si lancia senza paracadute, da un grattacielo, con una gonnellina, ma è una dote che tutti dobbiamo possedere, perché le cose non sono mai, mai certe. Questo può spaventare, ma allo stesso tempo ti fa rendere conto che spesso perdi tempo a farti seghe mentali su cose passeggere, su aspetti davvero poco significativi della vita. Come direbbe un bravo appassionato di crescita personale, quando sei nell'incertezza agisci e poi vedi. Usando una terribile metafora, ma molto efficace, prima spari e poi aggiusti la mira. Non sai quante persone che magari mi chiedono consiglio su come promuoversi online, colleghi, e poi alla fine ti racconterò qualcosa di interessante se sei un mio collega, mi chiedono, Genna ma come faccio a fare questo? E poi magari hanno un'idea di un progetto, mi dicono, anch'io faccio il mio podcast, oppure qualcun altro dice, ho aperto un canale video su YouTube, su Facebook, oppure qualcun altro mi dice, ho iniziato a scrivere un libro, e poi mi dicono, sì però continuo a rivederlo, a rivederlo, a rivederlo. Ecco, evita di aspettarti di fare la cosa perfetta, falla al meglio delle tue possibilità e poi lancialo, e poi al massimo aggiusti la mira. Questo è il consiglio, aggiusta la mira, perché non esistendo la certezza puoi sempre migliorare quelle cose che stai facendo. Secondo, diventa un ricercatore. Non nel senso che devi fare il dottorato di ricerca, ma nel senso di osservare le cose come se fossi uno scienziato, il quale sa bene che la propria ricerca non avrà mai fine. L'ostacolo più grande dell'illusione della certezza sta proprio qui, nel credere di sapere già tutto, ma come diceva Snoopy, ora che so tutte le risposte mi hanno cambiato tutte le domande. Quindi allenati, devi studiare, come dico spesso, anche se c'è incertezza, fra virgolette, devi conoscere. Ricordati l'esempio del musicista, solo un musicista che conosce molto bene quel brano può improvvisarci sopra. Se non lo conosci non può improvvisarci sopra. Solo chi conosce davvero quel brano riesce a capire che ogni volta che lo fa, lo fa in modo leggermente diverso. Solo se hai la mente aperta potrai notare che l'ambiente attorno a te cambia continuamente, che durante la primavera tutto fiorisce, che durante l'inverno tutto sfiorisce. Se non noti questo, vuol dire che i tuoi schemi mentali sono troppo rigidi. Inizia a fare pulizia. E un buon modo per fare pulizia è... Terzo. Allena la tua presenza. C'è solo una certezza assoluta nella nostra vita. Ciò che stai vivendo adesso, nel qui ed ora. Le parole che stai ascoltando sono queste. Sì, di certo tra poco potrai spararti un suono assordante, come in quegli scherzi imbecilli che si facevano una volta. Tranquillo, non lo farò. Ci tengo alle orecchie dei miei psinellini. Per farlo l'esercizio migliore è quello della meditazione. E che te lo dico a fare? E detto tra noi è un inno all'incertezza, tra virgolette. Perché la pratica deve condurti dove tu non sai. Te lo ripeto. La pratica della meditazione deve condurti dove tu non sai. Quarto ed ultimo punto, se hai troppe certezze, dubita. Un piccolo punto fuori concorso, nel senso che non è stato editato e non lo sto leggendo come invece ho letto quelli precedenti, è quello di notare quali sono i campi dove hai esagerate certezze. Questo evita di farlo per mettere in discussione la tua certezza, ma semplicemente per affinare la tua conoscenza e aprire la tua mente. Se pensi di sapere tutto su un certo campo, dubita. Perché nel momento in cui credi di sapere tutto, è proprio in quel momento che cambia tutto. Questo vale in ogni campo della nostra vita. In ogni campo della nostra vita. Quando pensiamo di sapere tutto di un certo campo, ecco che davvero come Snoopy ci cambiano tutte le domande. Quindi prova a fare questo piccolo giochino. Nota quali sono le cose su cui sei maggiormente certo e inizia a guardarle con un pizzico di dubbio, ovviamente senza metterle troppo in discussione. Semplicemente per aprirti ad osservare questa cosa da differenti punti di vista. Perché quando inizi a discriminare senza giudicare, quindi a discriminare davvero, ecco che quella cosa lì, aumentare questa conoscenza, aumenta anche la tua consapevolezza, la tua capacità di guardare in faccia alla realtà. Ti faccio un esempio un po' duro, un po' crudo, ma che riassume bene questo. Se hai mai avuto a che fare con una persona disabile e magari non ci hai avuto mai a che fare, ti sarai accorto che fai un po' difficoltà magari ad averci a che fare. Perché in realtà le persone molto diverse da noi attraggono tantissimo la nostra attenzione e quando ci accorgiamo che il nostro occhio va a cadere lì, ci vergogniamo perché sembra che stiamo fissando quella persona. Questo non lo dico io, ma sono delle ricerche a dirlo. Appunto, le stesse ricerche ci dicono che se invece inizi a parlare con quella persona, a fargli domande, a chiedergli chi sei, come ti chiami e dove arrivi, che cosa fai nella vita, quanti anni hai, eccetera, più conoscenze hai su quella persona e più la vedrai come una persona senza handicap. Ok, questo è per dire che in realtà approfondire la conoscenza di qualcosa, anche di qualcosa di cui abbiamo un'immagine ben definita, la mettiamo lì, aumenta tantissimo la nostra conoscenza. Se hai amici con disabilità, se hai mai conosciuto una persona disabile e ti è capitato, come è capitato a me, di passarci magari molto tempo insieme, ti sarai reso conto che la vedi esattamente come tutte le altre persone, con tutti i suoi difetti e tutti i suoi pregi. Ok, questo era un esempio un po' forte, ma molto indicativo sul fatto che se hai troppe certezze su qualcosa, se pensi di avere un'immagine definita su qualcosa, facci a fondo, scavaci e osserva e nota che più osservi quell'immagine, più ci porti consapevolezza e più cose puoi comprendere di quella immagine e scoprirai che quell'immagine è un'immagine mista, enorme, in continuo divenire. Ok ragazzi, mi fermo qui perché oggi ho parlato davvero tantissimo, pensavo di fare un podcast più breve, invece non ci sono riuscito, se mi hai seguito fino a qui e sei un mio collega, ho una piccola sorpresa per te. Tra qualche mese, per la precisione in luglio, per la precisione agli inizi di luglio, adesso non posso dirti esattamente come e quando, terrò un corso di web marketing per psicologi. Ok, forse non si chiamerà così, sarà un corso per aiutare i professionisti come me a promuovere la propria attività online e sarà un corso davvero meraviglioso perché insieme a me ci saranno ospiti eccezionali e il relatore principale insieme a me sarà Luca Mazzucchelli. Se segui il mondo della psicologia, se sei un mio collega, conoscerai sicuramente Luca. Ti invito quindi a restare acceso, stai in ascolto perché nei prossimi giorni ti arriveranno delle proposte, probabilmente non da me, dalle varie mailing list degli psicologi proprio con questo evento. Se sei uno psinellino, mi segui e non sei un mio collega, mi dispiace che tu non possa venire, ma credo che sia riservato solo ai miei colleghi, quindi agli psicologi psicoterapeuti o ai medici psicoterapeuti. Bene, dopo aver fatto un po' di pubblicità, ti ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qui. Sai che puoi iscriverti alla mia mailing list se vuoi entrare nella community di Psinell, scaricare tutti gli aggiornamenti, scaricare il file in mp3, scaricare il quaderno degli esercizi, essere sempre aggiornato. Puoi anche iscriverti alla fanpage di Facebook nella quale chissà quando inizierò a fare prima o poi delle live, quindi dei video, e verrai avvisato in tempo reale. Non solo attraverso la fanpage puoi essere informato di quando usciranno dei miei articoli. Ad esempio, questo mese è uscito, adesso siamo in maggio 2016, per chi ci ascolterà fra cento anni, è uscito un articolo per 4man, che guarda caso vede come tra i protagonisti anche Luca Mazzucchelli. Questa è una pura sincronicità. Quindi vieni su iTunes, se non l'hai ancora fatto, a mettere la tua review a 5 stelle con un piccolo commento e condividi questo podcast, questa puntata, con chi pensi possa esserne interessato. Bene, anche per oggi è tutto, ti auguro una splendida giornata, spero di averti fatto una piacevole compagnia. Ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologianeurolinguistica.net.